Gli inglesi lo chiamano The Wall in Italia e più semplicemente il muro. In Calabria ce n'è uno, quasi insuperabile, ed è fatto di carne ed ossa. Si chiama Giacomo Sintini e di professione fa il palleggiatore in casa Tonno Callipo. Con i due muri realizzati nel match contro Castellana Grotte, Jack ha infranto il muro, è proprio il caso di dirlo, di 30 punti in questo fondamentale, 31 per la precisione in 15 partite. Dall'introduzione del Rally Point System tra Serie 1 e Serie 2, solo un altro palleggiatore ha fatto meglio di lui, nello stesso lasso di tempo, ironia della sorte, e un altro ex gelorosso, il cubano Javier Gonzalez, che nella stagione 2010-2011 ne mise a referto 33. Dopo i mille record sgretolati, Jack The Wall vuole superare anche questo, e la trasferta nella Tana del Matera di domenica prossima è la chance più ghiotta. La formazione lucana, infatti, è una delle formazioni che subisce di più in questo fondamentale, 46 i muri patiti nelle sole quattro giornate del girone di ritorno.